Hai presente Superman che hanno messo su StumbleGuys? Sì Bene Un hacker ha deciso di farlo volare Cioè? Oddio Vedi? C'è tipo così Oddio guarda come vola Guarda No ma che figata Ve lo voglio pure io soltanto per questo livello No per tutti i livelli No pure per questo soprattutto perché io non so fare i trick Ah ecco Ma guarda che cacchio di figata però Sì però è facile vincere così eh Servirebbe per tutti i livelli la verità Ma guarda c'entra subito il cerchio Dai Lascia like e iscriviti al canale Ciao